Avevano forzato la porta d'ingresso e sfondato i muri posti a contenimento degli infissi. Tre stranieri, di cui uno già noto alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dalla polizia di Fano per aver danneggiato e occupato abusivamente un casolare in zona ex zuccherificio. Le stanze, in condizioni igienico-sanitarie molto precarie, erano state utilizzate dagli uomini, due rumeni e un ungherese, per ricavare dei giacigli. Nella stessa struttura, gli agenti diretti da Stefano Seretti hanno trovato anche alcune biciclette, sulle quali verranno svolti gli accertamenti per verificarne la provenienza. Durante i controlli svolti nei giorni scorsi, i poliziotti hanno proceduto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti di una fanese. La donna, di 47 anni, aveva ceduto il suo immobile, situato a Fenile di Fano, a uno straniero irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per droga, senza stipulare e registrare alcun contratto. Gli indagini degli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pesaro, hanno portato all'emissione, da parte del Tribunale del Capoluogo, di un decreto di sequestro preventivo dell'abitazione. Inoltre, al fine di prevenire episodi di spaccio e furti, i controlli della polizia si sono incentrati anche nei quartieri di Sant'Orso, San Lazzaro e Vallato. In totale sono state sottoposte a verifica 150 persone e 65 veicoli. Un'italiana, senza fissa dimore proveniente dalla Romagna, è stata arrestata perché destinataria di una misura di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Macerata sulla base degli elementi forniti dagli investigatori del commissariato a causa del suo coinvolgimento in quattro furti consumati nei negozi di Marche e Umbria. Nello specifico, la donna, una 45enne già nota alle forze dell'ordine, era stata sottoposta a un controllo nel centro storico di Fano, dopo essere stata notata dai poliziotti ad effettuare dei sopralluoghi in alcune gioiellerie. I successivi approfondimenti avevano consentito di ricostruire il suo modus operandi. Si fingeva una cliente, si faceva mostrare i preziosi dai commissi e poi li distraeva per sottrare la merce con abili mosse. Proseguiranno senza sosta i servizi straordinari di controllo da parte delle pattuglie impegnate anche sulla verifica del rispetto delle norme anticontagio.